Soldato Corvo, Brennan ci sta aspettando. Signore in Sicilia, la rivolta è già nell'aria. Ancora non abbiamo nessun nostro agente nell'isola. I miei ragazzi sono in polsini e sparano su qualsiasi cosa si muove. A polvere da sparo e l'amice sono già pronti. Serve solo qualcuno che accende il fuoco. E gli americani hanno i mezzi per farlo. Non potevo credere ai miei occhi. Congratulazioni Corvo. Grazie, signore. Ero un agente dell'OSS. Vogliono mettersi in contatto con il boss mafioso Nike Luciano. Sono il figlio di Cesare Corvo. Massimo. E c'è ancora gente disposta a lottare per la libertà. Gente come tuo padre. Cosa non deve essere che si fighiamo? Bastante! Quelle terre erano incolte. No, è come... Vista di me! Tutti gli uomini sono creati uguali. E tu non dimenticarlo mai. Fai buon viaggio, Tenente Corfo. Luca. la frega per l'fil instructor. È un segno.